Signore e signori, buonasera. Se siete pronti all'emozione, tra pochi istanti l'armonia dei colori di cui non genera, trasportandoli verso nuove sensazioni di fuoco. Ispirato al film d'avventura, sulla cui musica si nombrano i fuochi, lo spettacolo a cui state per assistere rappresenta anche l'avanguardia della tecnologia pirotecnica. Ecco a voi, un sipario di luce. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Buona visione. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Il progetto SCENE è opera del design di Alessandro Borsani. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti